Non si fa tendere la risposta della maggioranza pratolana alle accuse mosse dall'opposizione sabato scorso in merito all'aumento della pressione fiscale per i cittadini di Pratola Peligna, di cui si è discusso nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, datato 29 novembre scorso. Ciò che in sostanza sottolinea la minoranza che ha poi abbandonato l'Aula è che l'amministrazione decrescenti sa approvato il bilancio di previsione 2013 con un ulteriore aumento della pressione fiscale sui cittadini pratolani. Se l'anno scorso la stangata è arrivata da un regolamento IMU con aliquota al massimo attacca l'opposizione, quest'anno arriva dall'applicazione del regolamento Tares. Con l'applicazione di quest'ultima i cittadini subiranno elevati aumenti della bolletta, magnificando in questo modo l'impegno grazie al quale si è prodotta un'altissima percentuale di differenziazione. Per la maggioranza a parlare invece sono i numeri che vengono forniti in maniera puntuale da Vivere Pratola in una nota, che ricorda ai consiglieri Leone e Dinino che un bilancio non si approva con le chiacchiere, ma con i fatti e i numeri che devono essere certi e attendibili, rimarca la maggioranza in una nota. Vogliamo che tutti sappiano, perché i finti paladini fanno finta di non sapere, prosegue la nota, che questa amministrazione ha dovuto fare i conti con il taglio del governo di 215 mila euro, l'azzeramento del fondo del sisma di 150 mila euro ed una spesa per minori ospitati nelle case famiglia, maggiorata di 100 mila euro rispetto al 2012. Nel replicare all'opposizione il gruppo consigliare Vivere Pratola, poi rimarcato come rispetto all'obbligo del pareggio finanziario e di fronte all'obbligo di colmare la voragine impostaci dal governo, i consiglieri Leone e Dinino non hanno saputo per l'ennesima volta proporre nulla, anzi hanno avuto la brillante idea di fare due proposte che non solo erano riferite all'anno 2014, ma che addirittura davano la certezza di un buco di bilancio senza avere il minimo pudore di prevederne la copertura. Nota dolente tra le tasse la famigerata Tarzutares, che il governo ha prima imposto come obbligo di legge, ma poi nelle ultime settimane ha rimesso ai comuni, gettando ombre sui sindaci che navigano nel caos più totale. Sulla questione i consiglieri Leone e Dinino, prosegue la maggioranza, non dicono che per recuperare la voragine impostaci si sarebbe dovuta aumentare comunque anche la Tarzu. Noi abbiamo quindi ritenuto opportuno introdurre la Tarzutares fondata sul principio chi più inquina più paga. La Tarzutares infatti tiene conto non soltanto del numero dei metri quadrati delle abitazioni, come avveniva per la Tarzut, ma anche del numero dei componenti il nucleo familiare che le abita. Per quanto riguarda i dubbi sulla trasparenza di una voce di bilancio, sottolinea ancora la maggioranza, sollevati dall'ex assessore a ramo, oggi all'opposizione, vogliamo ricordare che nel corso del Consiglio Comunale la questione è stata abbondantemente chiarita, tanto dal segretario comunale quanto dal responsabile del servizio finanziario. Di fronte alle spiegazioni circostanziate e corredate dei riferimenti di legge, abbiamo assistito ad un patetico abbandono dell'aula da parte di tutti i consiglieri di minoranza, senza alcuna argomentazione. Ci saremo aspettati in un momento così difficile, conclude la nota, un maggior senso di responsabilità e consapevolezza da parte delle opposizioni, ma abbiamo fatto tutto da soli ed è bene che tutti lo sappiano.